buonasera buonasera a tutti oggi che si mangia allora facciamo un bello antipasso antipasso che facciamo? una melissana ripiena di prosciutto e mozzarella facciamo un bello taglio a fetina a fetina guarda che bellezza a fetina la passiamo qui un pochino del uevo e poi del uevo la passiamo qui, guarda che bellezza, guarda che bellezza e ora vedremo come queda, abbiamo il prosciutto di parma un po' di albacca e abbiamo utilizzato una mozzarella deliciosa e la melissana la fremo in aceite di soia, vedremo in l'envolta e le tiriamo la bellezza, ora che facciamo? suavecito, vamo enrollando, vamo enrollando, mire che bellezza, vamo enrollando, vamo enrollando e vedremo, al final mire questa bellezza, che bellezza, venga a vedere, venga a vedere, ora vanno a vedere al final, in bottini, vamo a parlare in spagnolo, questo è un enrollato di berenjena con prosciutto, prosciutto crudo e mozzarella, può essere mozzarella fumigata o mozzarella normale, ora, questi sono 4, vamo a tenerlo, sono i nuovi plati che il chef viene sacando, agarravo qui, questo è qui così, e vamo a fare, sempre mi tengo che sacrificare per voi dios le bendiga grazie a tutti